L'acquirente che ha sottoscritto una proposta di acquisto, nel caso in cui il venditore si renda inadempiente, ha diritto di ottenere il trasferimento della proprietà con sentenza. Principio espresso nella sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona legali associati. Emessa dal Tribunale di Salerno il 24 gennaio 2024. Responsabile del procedimento avvocato Francesco Bresci. Sei un venditore? Sei un acquirente? Hai bisogno della consulenza immediata di un avvocato iper specializzato in materia immobiliare? Non vuoi perdere tempo e soldi in giri inutili e pareri approssimativi? Da oggi puoi incontrare comodamente da casa tua, un avvocato super specializzato Lex Consol in video appuntamento Skype. Avrai a disposizione uno dei nostri avvocati che risponderà a tutte le tue domande in materia immobiliare e ti difenderà in eventuali vertenze. Per informazioni, chiama 345 6047 829.